bravo, oh dammi i piattini, oh aspetta rimanimi, oh bravissimo, oh non mi strappare i miei dollari il numero si conclude così perché lui, voi lo sapete ma è un acrobata vero per cui adesso lui non scenderà acrobatico come prima ma lo lancerò nel pubblico e poi lo dovete prendere al volo mettete anche tu lì, anche tu la musica, ma donica dammi la pallina che devi vedere il bambino allora mettete tutti le bambine così per favore, io contro fino a 3 e lo lancio vai, uno, due, non vuole essere lanciato, vabbè scendi acrobatico come prima, vai nooo, lo tirava giù nooo